ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di crash tech team racing oggi andiamo a fare la prima gara della seconda zona sfida del pneumatico per chi sta vedendo il video scrivetemi nei commenti dicevo scrivetemi nei commenti se nella prima zona mancava qualcosa perché io penso di averla finita al 100% comunque qua la teleappata va benissimo e non c'è nessuno con cui unirmi ok si è unito lui qualcuno con me invece eh i primi sono parecchio distanti vero caspeterina non ci credo dai ok sono molti forse eh non riesco a raggiungerli ho un problema se non è possibile non riesco a raggiungerla provo a sparare io boh no cazzo no aspetta sono ancora qua davanti finalmente oh caspeterina no da non ci credo ok no Ok, è stata abbastanza dura, ma ce l'abbiamo fatta vincere E già penso che qui la difficoltà va aumentando un pochettino Ah, hanno messo le rame stavolta Eh, ma quella non la potevo prendere, è troppo in basso Ah, ma quella non la potevo prendere Perfetto Peccato per quello che ho dovuto lasciare, perché non lo potevo prendere quello Sono rotante Ci riproviamo, che ne dici? 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 We'll be. ora manca solo cori e spara e finiamo la gara completamente al 100% ah però si complica qua non abbiamo più crunch ma abbiamo nina ora e questo non me lo aspettavo vabbè già abbiamo fatto oro però eh ma che cazzo oh non riesco a prendere più ne uno ma che cavolo no vabbè ma veramente ma stare ma fa schifo ce ne ho mancati quattro perfetto e la gara sfida da pneumatico è finita al 100% anche adesso proseguiamo devi fare la sfida e maledetti anzi no quella sfida del ma qua ci mi sa che c'è un filmato infatti immersione e allora guardate poi la facciamo all'ultimo come sfida così almeno sappiamo un po' le strade anche perché se no possiamo anche sbagliare allora non compro un cristallo cristallo di seconda mano vendisi a ottime condizioni rubato dal mio capo e ora disponibile per tutti voi mille monete ok molto bene gentile signore ecco qui un cristallo del potere da usare ovunque in qualsiasi momento e ora dimentica di avermi mai incontrata ok 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 ehi ma tu sei quel tipo crash bandicoot vero guarda qui ho un bell'articolino da proporti questo vestitino rosa da ballerina perfetto per qualsiasi umano o mutante e lo puoi avere a un prezzo molto conveniente ben fatto ragazzo ora qualche tuo amico fortunato sarà bello come un cigno con quel meraviglioso tutù che taglia hai di collo qua qua mi sa che ci sia un altro filmato infatti qua mi sa che c'è un'altra gara eh sì questo dobbiamo fare la prossima volta ciao amico grazie per essere passato vuoi comprare qualcosa avanti ne ho bisogno mia moglie mi pianta in asso se non compri niente da me mi stanno offrendo un po' tutte le monete grazie tante non hai idea di quanto tu mi stia aiutando ho perso un sacco acquistando azioni su internet e così non so diventare un malvagio strozzino sembrava una buona idea ok purtroppo divido il video in due parti perché il programma di registrazione tende a corrompersi se no non raccoglie più monete possibile perché altrimenti li stiamo accolto questo conto si rompe ecco lo sospettavo mi sa che qua c'è un altro filmato no no si invece si forse ci arriva in un'altra parte boh qua c'è un altro cristallo tu sei il crash vero cerchi cerchi cristalli del potere vero dunque diciamo che io io davo un sacco di soldi a a della gente quindi io io devo vendere questo cristallo mi taglieranno le dita ti prego compralo ti scongiuro tutti mille monete oh grazie grazie infinite non sai quanto mi stai aiutando in questo modo prendi quello stupido cristallo è tuo io vado a farmi una pizza ok ma là c'è un minigioco però come ci andiamo ah qua abbiamo anche il circuito però c'è un minigioco prima genio in fuga vediamo se è come gli altri è un po' diverso spero che sia l'ondata 1 ah ok ah si c'è il pal eh però si va complicando però alcune si dividono che siamo bronzo argento penso che già la possiamo se la possiamo andare mi sa che possiamo anche poi fallire dai e questa magari la finiamo questa parte dai va bene adesso possiamo anche fallire perfetto perfetto e questo è anche fatto allora facciamo questo di qua l'arena terra dell'impossibile e direi che dopo questa arena possiamo tornare di nuovo nella seconda gara e concludere il video ah è diverso ah è diverso non è arena di guerra di acrobatica e questa è diversa come cosa non so se ci riesco attenzione signori passeggeri per mantenere il controllo del veicolo usate il ped analogico il tasto R e il tasto L per manovrare l'auto in aria e ricordate i cuscini possono essere usati come galleggiati e ma che cazzo però faccio schifo però ma vaffanculo eh ma ma che cazzo però eh dai vai c'è solamente peli bronzo quanto ho dovuto fare non ce la farò mai fare loro ora cosa subito ok ok Ma vaffanculo Vaffanculo proprio Non ce la farò mai a fare loro Non ho abbastanza tempo mi sa C'è per loro dovrei fare Altri 50.000 Non controllavo più la macchina Vabbè Ok Ce la farò ora? Ok forse ce la faccio Dico forse Ok ce l'ho fatta Non pensavo di farcela veramente Ma quanto paio ce l'ho fatta Mi sa che farò anche quasi No 200.000 non ce la faccio Va bene Non ero sicuro di farcela Però quanto paio alla fine ce l'ho fatta Allora Là c'è un cristale Il problema è come ci arriviamo Ok Visto che qua c'è un punto rialzato No ci vuole un punto ancora più rialzato qua Eh io vorrei capire come devo andare là Mi sa che Eh di là Di là No non ci arrivo là Che di qua forse E dovrei fare un percorso lunghissimo qua Qua ci sono pure un macchino di cose da prendere anche Eh forse da qui No Oh merda Eh no Non me l'aspettavo Ah Qui sboccavamo la scoccia Già della prima gara Che non ci è servita comunque Qua 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 No, non ci fa arrivare là Ma forse sei di qua, aspetta Vaffanculo Eh, qua la vedo dura comunque Fai tutta questa parte Cioè in qualche modo noi Riuscendo a stare da là Dovemo riuscire per farci tutto quel percorso Ok E sono morto ti pareva Il problema è come faccio a saltare là io Noi raga è impossibile Come cazzo faccio C'è io qua quello che dovrei fare è una cosa veramente impossibile Ok Ma è bloccato però Ah Ok Mica sa che si sbloccherà dopo quindi Torniamo nella seconda gara E concludiamo per oggi Perché Non vedo altre cose che potremmo fare Va bene Prossima volta Il lagare il fagiolo parlante Se il video vi è piaciuto come sempre Vi invito a share un bel mi piace Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao